Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e in questo breve video ti voglio spiegare perché non facciamo preventivi via mail. Non li facciamo perché non ci piace fare quello che ci viene detto. Lo dico scherzando ma è così. Ti faccio l'esempio del dottore. Ci sono persone che guardano i loro sintomi, guardano quello che hanno su Facebook o su Google e poi vanno al dottore e gli chiedono prescrivimi questo tipo di farmaco. Ecco, lì si va a perdere completamente la professionalità e la competenza di chi c'è dall'altra parte. Per quello che non faccio quello che mi viene detto. Non eseguo quella che io amo definire scherzando la lista della spesa. Mi fai quattro finestre 100x200, due finestre così, due dal barriere, sette porte interne. Ecco, se dall'altra parte c'è un po' di professionalità e un po' di competenza viene completamente persa. Noi facciamo una consulenza approfondita per trovare quello che realmente ti serve. Non la lista della spesa che magari ti ha fatto l'architetto geometra e per carità spesso sono anche fatte bene. Però a volte ci sono dei bisogni che tu ancora neanche conosci e nella consulenza queste cose vengono fuori. E una volta che sono venute fuori queste esigenze io ti propongo quello che funziona, quello che ho testato, non quello che ho trovato nella lista delle spese che spesso sono molto diverse. Quindi se vuoi qualche cosa in più vai su www.bisacchi.it Se vuoi la lista delle spese vai su www.preventivi.it Se ti è piaciuto questo video metti mi piace e segui il canale così non ti perderai il prossimo video. Ciao! Ciao!